Questa mattina a Palazzo San Giacomo si è tenuto il primo incontro fra le amministrazioni di Napoli e Bologna per lo scambio di idee e per il confronto di soluzioni concrete nelle aree dei servizi sociali e delle politiche per i giovani. Due città differenti per dimensioni ricchezza e composizione sociale mettono assieme esperienze e competenze per far fronte ai nuovi fabbisogni delle comunità urbane. L'aumento delle disuguaglianze sociali, le nuove povertà, il disagio giovanile sono temi che sollecitano tutti i livelli di governo. Un laboratorio fra esperienze civiche diverse può far nascere risposte pubbliche più efficaci. All'incontro hanno preso parte anche i presidenti delle ACLI di Bologna e di Napoli. Ci sono obiettivi comuni che devono essere portati avanti in contesti diversi con risorse differenti ma io credo che un'esperienza come quella che è a Napoli in alcuni ambiti possa essere davvero di grande aiuto per una città come Bologna che più recentemente ha dovuto affrontare criticità legate a trasformazioni sociali molto forti anche nel centro e nel nord d'Italia. Spero che Bologna abbia anche la possibilità di mostrare e far toccare con mano il lavoro che anche noi stiamo portando avanti nella nostra città. Abbiamo situazioni, famiglie che mai avrebbero pensato di avere bisogno di accedere a un servizio sociale che oggi invece arrivano magari in maniera tardiva, magari con pudore, magari con molta prudenza a chiedere aiuto e quindi certamente la necessità di prendere in carico quel bisogno in maniera trasversale non per targhe di utenza come per molti anni è stato fatto. Poi certo viviamo come tutte le città una evoluzione demografica e sociale molto forte, il tema dei migranti, il tema della povertà che oggi si è inserita nelle nostre città con una forza prima sconosciuta e sono sicuramente due fronti importanti e che ci chiedono appunto di continuamente di immaginare soluzioni nuove anche insieme alle persone. La giornata di lavoro è proseguita con una visita alla Pizzeria dell'Impossibile nel centro storico di Napoli e alla Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura, due esperienze considerevoli messe in campo dall'amministrazione napoletana nell'ambito delle politiche sociali e giovanili. Siamo in un luogo per noi importante, la Pizzeria dell'Impossibile, ragazzi che sono ragazzi che vengono dall'area penale della città, che per noi sono una risorsa, sono la speranza della città di Napoli. Loro oggi si formano in un sapere, in un sapere anche che ha molto sapore perché sono i protagonisti di una mensa, una mensa per i più deboli, per i più poveri della città di Napoli. Oggi noi abbiamo dato vita ad una giornata che è una vera e propria full immersion in quelle pratiche che la città di Napoli ha voluto mettere in campo per rispondere all'esigenza dei bisogni dei ragazzi e non solo di questa città, spesso facendo i conti con i limiti di finanziamenti pubblici ma decidendo di fare in modo che questi limiti pubblici non potevano diventare dei limiti al nostro modo di fare, al nostro modo di dare delle risposte.